Giulio Dini, avvocato, neodiplomato, direttore sportivo, nonché legato da anni a Luciano Spalletti. A proposito di Spalletti ti chiedo se rimarrà al 100% allo Zenit. Ciao Lorenzo. Spalletti ha un contratto fino al 2015 e lo onorerà. Quindi tutte le squadre italiane che lo sognano possono rimettere nel cassetto queste speranze. Questo è un gioco simpatico che avviene ormai da qualche anno. Siamo fermi a quello che è stato fino adesso, cioè una grande esperienza in Russia del mister. Parliamo allora del mercato italiano. Dopo Giuseppe Rossi quale sarà secondo te il grande colpo? Il grande colpo secondo me potrebbe essere Lampard. Se possiamo considerare un gran colpo l'acquisto di un giocatore di grandissimo nome, però alla soglia dei 35 anni. Ma è un giocatore che ha ancora tanta voglia, si vuole misurare ancora, vuole giocare ad alti livelli. E per quello che mi risulta non ha intenzione di fare il pensionato d'oro. Per cui credo che l'Italia possa essere una buona opportunità. Oppure una delle due punte della Roma. Mi riferisco a Osvaldo e Destro. Secondo me sono due giocatori di grande valore. Ci sono più squadre che hanno bisogno di una punta centrale di movimento come sono questi due. Parlando del Milan, l'accessione di Pato è stata realmente un affare per i rossoneri? Io credo che fosse un rapporto concluso. Non parlerei in termini di affare. Se sono arrivati i 15 milioni per un giocatore di grande livello, ma che negli ultimi anni aveva dato poco per problemi fisici, è un'operazione che ha comunque portato nelle casse una somma discreta. Che il Milan probabilmente reinvestirà. Per quello che riguarda Snyder, quale sarà il suo futuro se parlato del QPR? Il QPR è una squadra con una proprietà forte, che ha intenzione di affermarsi. Il tipo di giocatore che può far comodo a questa nuova dimensione è un'ipotesi, secondo me, plausibile. Osvaldo invece resterà alla Roma? Non ci sono dubbi su questo? Oppure qualcuno potrà inserirsi su di lui? Le parole definitive non si possono esprimere mai, soprattutto in questa fase di mercato. Vedo, come ho detto prima, che ci sono un paio di giocatori della Roma, Destro e Osvaldo. Forse un po' per la similitudine della posizione vanno poi ad occupare, che interessano a più squadre. Per cui non escluderei che uno dei due, alla fine del mercato, possa lasciare la Roma. Non mi lo sentirei di assicurare la loro incedibilità fino in fondo. E lo sentirei di assicurare la Roma. E lo sentirei di prodotto. Grazie.